Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Non so se riusciate a vedermi e sentirmi regolarmente, spero di sì. Vediamo se qualcuno di voi riesce a connettersi. Bene, la diretta funziona e quindi possiamo procedere con questa introduzione al tema delle regole e degli OGM, che ci serve soprattutto in funzione dell'incontro importante che abbiamo mercoledì sera alle 18 con Mario Pezzotti, che è un grande esperto di genetica agraria, è professore nell'Università di Verona di genetica agraria ed è anche il leader di un nuovo spin-off che è appena nato a Verona che si chiama Edivitis e che si occupa di evoluzione assistita della vite in funzione della produzione del vino. Grazie a tutti gli amici che stanno salutando, è un piacere vedervi numerosi anche se siamo di lunedì sera. Allora, vi dicevo, questa serata è preparatoria perché parliamo un po' di regole prima di parlare con chi è sul fronte della ricerca genetica in modo tale da non dover spezzare la sua spiegazione mercoledì sera. Ho il piacere quindi con voi di discutere e di presentare alcuni degli aspetti delle regole sugli OGM. Mi scuso innanzitutto in apertura dello scherzo che vi ho fatto con il sondaggio di ieri, infatti vi ho chiesto se preferivate che si parlasse di TEA o di OGM questa settimana e effettivamente lo scherzo è molto banale perché le TEA, cioè le tecniche di evoluzione assistita per la legge attualmente in Europa sono OGM e quindi parlare di OGM o parlare di TEA per ora in questo momento è ancora la stessa cosa. Ma spoiler, ovviamente la mia posizione è un pochino critica rispetto a questa assimilazione, ne parleremo e vediamo dove ci porta la spiegazione stessa. Allora cominciamo con un po' di cronologia sulle regole riguardo agli OGM. Noi abbiamo attualmente una definizione di OGM in vigore nell'Unione Europea che risale al 2001, però la definizione di organismo geneticamente modificato in realtà è la stessa della direttiva 220 del 1990, quindi immaginate 30 anni fa. 30 anni fa, per darvi un'idea, in commercio si affacciava l'ipotesi delle varietà Roundup Ready, cioè il mais RR, quello che resiste all'erbicida, e le varietà Bt, cioè le varietà di soia, di cotone, di mais, a cui era stato aggiunto attraverso DNA ricombinante un pezzo del DNA del Bacillus thuringiensis che è in grado di produrre una sostanza naturalmente insetticida. Il Bacillus thuringiensis è un batterio che vive nel suolo appunto della thuringia, da cui il nome, e per sopravvivere ai suoi predatori, per sopravvivere nel suo ambiente, ha sviluppato la capacità di produrre una tossina. Questa tossina, che è efficace con gli insetti, è la tossina del Bacillus thuringiensis, per cui su quelle varietà geneticamente modificate vedete la sigla Bt. Ora, nel 1990 siamo nove anni dopo la messa in commercializzazione dell'insulina da batteri modificati e siamo veramente agli albori delle varietà transgeniche, attenzione alla parola transgeniche, che prevedono appunto piante in grado di resistere agli herbicidi oppure di resistere agli insetti grazie appunto a un pezzo di genoma che arriva da un batterio. Quindi un pezzo di un regno, i batteri, dentro un pezzo di un altro regno, quello degli insetti. Scusatemi, un pezzo di un regno, i batteri, in un altro regno, quello delle piante. E questa cosa qui, potete immaginare, nel 1990 è molto forte. D'altra parte, gli OGM, sin dal 1973, quando si realizza il primo in America, sono sotto l'attenzione mediatica perché rappresentano qualcosa di fortemente innovativo che è facile per ragioni mediatiche appunto etichettare in modo allarmistico. Ma veniamo a noi, siamo nel 1990. La definizione che viene data dal legislatore europeo è la seguente. Un organismo geneticamente modificato è un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l'accoppiamento e o la ricombinazione genetica naturale. Poi direte, vabbè, ma allora l'organismo geneticamente modificato non è solo quello in cui si interviene sul DNA, ma è invece qualunque organismo di cui siamo andati a intaccare il genoma. In realtà non è così, perché questa è la definizione contenuta nell'articolo 2.2, ma poi quando si vanno a vedere gli allegati che specificano le tecniche, si vede che dalle tecniche che producono OGM è espressamente cancellata, cioè esentata, la tecnica della mutagenesi. Sono parole un po' complicate, soprattutto dopo cena, adesso io non ho mangiato troppo pesante, però se lo avete fatto capisco che possa essere ostico. La mutagenesi è qualunque tecnica che produce una mutazione, ok? Ora, dopo la seconda guerra mondiale nella genetica agraria si è fatto largo uso della mutagenesi, cioè si sono utilizzate tecniche per far mutare i genomi delle piante, soprattutto bombardando con sostanze chimiche oppure con radiazioni i semi, per ottenere delle mutazioni da questi semi, che ovviamente non erano spontanee, perché senza quelle sostanze, quelle radiazioni non ci sarebbero state, e poi selezionare tra i soggetti mutati quelli che erano più adatti all'agricoltura. Ora, nel 1990, quando si definiscono gli organismi geneticamente modificati, a rigor di logica, della definizione che vi ho appena letto, e come sempre, se mi mandate una mail vi mando i link alle fonti, perché potete approfondirli direttamente, ebbene, in questa definizione si include anche la mutagenesi, perché certamente non si tratta di un accoppiamento e o una ricombinazione genetica naturale. Tuttavia, queste tecniche, le tecniche di mutagenesi, vengono espressamente tolte da quelle che producono OGM e quindi salvate da questa legislazione. Le si tratta come se fossero mutazioni spontanee, mutazioni naturali, anche se naturali non sono. Pensate al grano creso, la base per fare grano duro da pasta a partire dagli anni 70, che è una mutazione indotta attraverso le radiazioni proiettate sui semi di senatore Cappelli per ottenere il fatto che il senatore Cappelli, alto di solito un metro e mezzo, diventasse un grano alto poco più di mezzo metro, che alletta di meno, quindi si corica con più difficoltà se c'è un temporale. Ok? Ora, questa definizione, dettata nel 1990, evidentemente sconta lo stato dell'arte del 1990. Da un lato, gli OGM che si conoscono all'epoca sono essenzialmente gli OGM transgenici, quelli in cui gli elementi del DNA di due regni diversi vengono combinati per ottenere un effetto. E questo accoppiamento di DNA da due specie, addirittura da due regni diversi, è un elemento molto forte sui legislatori che di solito abbiamo con un livello di conoscenze scientifiche più o meno come il mio, cioè da scuole medie fondamentalmente. Dall'altra parte abbiamo delle tecniche che sono delle tecniche già sperimentate e che quindi vengono accettate anche se inducono delle mutazioni genetiche ancora molto più profonde della stessa tecnica OGM. Al tassista imbruttito che sto leggendo scrive che OGM è quando arbitro fischia, obietterei che forse la definizione non è di Bosco-Bressanini ma di divagatrice, che ringrazio sempre per le sue illuminanti dirette a proposito di questo tema, insieme a quelle di Dario che naturalmente sugli OGM ha tanto scritto e tanto ha spiegato. Allora, questa definizione del 1990, contenuta nella direttiva 220 del 1990 a livello europeo, nel 2001 viene sostanzialmente ricalcata nella nuova direttiva sugli OGM, ok? Però con una piccola differenza, vediamo se riuscite a coglierla. Organismo geneticamente modificato è un organismo diverso da un essere umano, in cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e o la ricombinazione genetica naturale. Vero che l'avete notato, anche perché l'ho letto in modo un po' facile da capire. Diverso da un essere umano. Cioè nel 2001, sono passati 11 anni, e si cominciano a vedere le applicazioni tecniche della ricombinazione genetica sugli esseri umani per curare delle malattie gravissime. Oggi sappiamo che la sperimentazione procede con delle speranze, non diciamo buone o cattive, ma delle speranze di curare cose gravissime, come l'anemia falciforme, che per via di un difetto genetico fa sì che le persone non producano globuli rossi in grado di portare ossigeno alle cellule in modo regolare. E quindi nel 2001, per prudenza, dalla definizione di OGM, si toglie l'essere umano. Perché l'essere umano, se è modificato geneticamente per guarirlo da certe malattie, è ok. Se invece a essere mutato geneticamente è una pianta, un animale, beh, allora, attenzione, ci dobbiamo fare molta più attenzione, ci dobbiamo dare delle regole molto più strette, ok. Quindi la definizione che tuttora disciplina gli OGM in Europa è una definizione del 1990, la cui unica revisione è stata quella che ha tolto dagli OGM gli organismi umani mutati geneticamente. Gli organismi umani mutati geneticamente esistono e circolano liberamente, perché sono esclusi da quella definizione, ok. Viceversa, le modificazioni genetiche di animale, secondo le tecniche della ricombinazione genetica, in pratica tutte le volte in cui un pezzo di DNA viene toccato volontariamente dall'uomo e inserito oppure viene aggiunto da un altro organismo, fa scattare il fischio dell'arbitro, per citare la definizione di Mautino Bressanini, così siamo ecumenici. Allora, qual è il tema rispetto a questo? Il tema dal punto di vista del diritto non è che cosa bisognerebbe fare e che cosa invece sarebbe buono o meno buono fare. Il tema dal punto di vista del diritto è che una definizione che era stata dettata per uno stato dell'arte di un certo tipo ormai sconta 30 anni di ricerca che sono andati avanti. Prima cosa. Seconda cosa, quella contraddizione per cui le mutazioni, tutte a caso attraverso la chimica o attraverso le radiazioni andavano bene nel 1990, più passano gli anni e più appaiono come una contraddizione che nell'ambito del diritto è un po' come la criptonite per Superman. Perché se il diritto è contraddittorio, diciamo che il principio di uguaglianza rischia di cadere molto facilmente e quindi non ci fa un'ottima impressione, non favorisce il rispetto del diritto stesso. D'accordo? Quindi nello stato in cui ci troviamo oggi noi abbiamo ancora una definizione di OGM che è una definizione basata sulla paura del transgenico e che fa una eccezione gigantesca per le modificazioni genetiche indotte a caso. Che cosa è successo nel frattempo e di che cosa parleremo a lungo mercoledì sera con Mario Pezzotti? È successo che sono nate le tecniche di cisgenesi, cioè non si è più andati a prendere dei pezzi di genoma o non si è più necessariamente andati a prendere dei pezzi di genoma da altre specie, ma si è potuto lavorare con il genoma della stessa specie e questo innanzitutto perché nel 1990 la sequenziazione del genoma delle specie non era ancora stata completata, mentre oggi gran parte delle specie hanno un genoma sequenziato. E oltre alla cisgenesi, meno di dieci anni fa è diventata una pratica scientificamente conosciuta la tecnica del genoma editing, che oggi si fa prevalentemente con la tecnica del CRISPR-Cas 9, che permette di incidere su un singolo gene. Quindi sequenziando il genoma conosco cosa fanno i diversi geni, con il CRISPR-Cas intervengo sul singolo gene. Ora, questo fa aumentare terribilmente la contraddittorietà di un regime giuridico che è nato nel 1990. Perché? Perché se io bombardo con le radiazioni dei semi e ottengo centinaia di mutazioni casuali, va bene, perché la legge dice che è escluso dalla considerazione di organismo geneticamente modificato. Se invece io intervengo con il CRISPR-Cas 9 su un singolo gene per ottenere ad esempio la resistenza a una malattia delle piante e modifico un gene di quella pianta e non introduco geni da altre piante, vabbè, questo però è un intervento sul DNA ricombinante e come tale è un OGM e quindi ricade sotto quella disciplina. Capite qual è il problema di contraddizione? Spero di sì, spero di essere riuscito a spiegarmi anche se è lunedì sera e l'inizio settimana è difficile per tutti. Dove sta l'effetto negativo di tutto questo? L'effetto negativo sta nel fatto che tutto ciò che è etichettato come OGM in Europa, che sia un OGM di prima generazione o che sia qualcosa di modificato puntualmente con le tecniche più avanzate, il tassista imbruttito dice concettualmente se fatto a capocchia va bene, apparentemente sì, perché il legislatore del 90 dice io il Creso lo utilizzo da 20 anni e come tale mi va bene perché lo usiamo da 20 anni e non c'è nessun problema. Ebbene, oggi sono 30 anni che si utilizzano gli OGM di prima generazione, se non altro per l'alimentazione animale, ma anche volendo per l'alimentazione umana, e soprattutto sono 10 anni che esistono delle tecniche molto più avanzate, che riproducono, ma lo spiegherà meglio di me Mario Pezzotti mercoledì sera alle 6, riproducono essenzialmente le modificazioni che la mutazione naturale produce nelle piante e negli animali ad ogni generazione. Quindi diventa davvero poco comprensibile perché se bombardo coi raggi gamma va bene, se invece modifico un singolo gene come potrebbe accadere spontaneamente in natura a quella pianta, non vada bene. Veniamo alle conseguenze negative di questa spiegazione. Le conseguenze negative sono che un OGM per essere utilizzato nell'alimentazione degli animali o dell'uomo deve essere autorizzato specificamente. E questa autorizzazione specifica per gli animali richiede delle regole di ammissione più blande, richiede il soddisfacimento di standard più blandi, mentre per gli umani richiede per ogni singolo OGM che si voglia introdurre una prova di non tossicità attraverso uno studio sui roditori. Ma non basta, perché una volta che l'OGM venisse eventualmente ammesso per il consumo umano, e tenete presente che gli OGM si vendono come ingrediente negli Stati Uniti d'America da decenni, dovrebbe essere etichettato in maniera specifica, quindi l'etichetta dovrebbe riportare a chiari caratteri, contiene questo ingrediente OGM, e ultimo ma non ultimo, tutta la filiera dell'OGM dovrebbe essere tracciata in maniera molto più puntuale di tutti gli altri ingredienti di quel cibo. Quindi l'utilizzatore finale dovrebbe essere in grado di produrre un pacchetto di informazioni rispetto all'ingrediente OGM estremamente articolato. Risultato? Cerchi di non utilizzare gli OGM. Ma anche qui nuova contraddizione. La nuova contraddizione qual è? Che se invece gli OGM sono sotto una certa soglia, che a livello europeo è 0,9%, l'Italia ha cercato di abbassare questa soglia e ha per questo dei problemi con l'Unione Europea. Se stiamo sotto quella soglia, gli OGM ce li possiamo mangiare. Quindi se nella lecitina di soia, che fa da lecitina all'interno di molti prodotti, e serve a tenere insieme sostanze idrofile e sostanze invece lipofile, questa lecitina viene spesso da semi che sono contenenti una piccola percentuale di semi di soia OGM, soia Bt normalmente, ebbene se quella quantità di soia Bt è sotto una certa soglia, allora va bene, ce la possiamo mangiare, non c'è nessun problema. Vedete che anche qui c'è un profilo di contraddittorietà, perché a rigore, se non ci deve essere nella catena alimentare, non ci deve essere. Viceversa, se ci può essere in piccola parte, bisognerebbe spiegare perché non possa esserci in una parte maggiore. In realtà, la spiegazione è molto semplicemente che il legislatore europeo si basa sul fatto che i consumatori europei non vogliono, secondo le rilevazioni più recenti, consumare cibi OGM. Ora, basare la legislazione che autorizza o non autorizza su ciò che i consumatori vogliono o non vogliono mangiare è un grosso tema di caratteri di politica legislativa. Non c'è dubbio, infatti, che nei paesi democratici ciò che le persone vogliono o non vogliono fare è qualcosa che conta, ci mancherebbe altro. D'altra parte, però, se le persone che decidono che cosa vogliono o non vogliono fare non hanno la possibilità di farlo perché il legislatore impedisce la vendita di quei prodotti, allora forse le cose stanno in modo un po' diverso. E soprattutto se la definizione di quei prodotti è una definizione che risale a 30 anni fa e che non rappresenta più quella che è la realtà attuale o perlomeno non la rappresenta tutta o la rappresenta in maniera molto grossolana, beh, è evidente che ai consumatori non si danno molte opportunità di farsi un'idea rispetto a dove stiamo andando oggi. E mentre si difendono dei prodotti che derivano da mutazioni grossolane indotte attraverso la chimica o le radiazioni si impedisce di fare la sperimentazione in pieno campo per delle produzioni che invece hanno delle mutazioni infinitesimali, ok? Mutazioni che sono estremamente puntuali. Allora, qual è il punto di tutto questo discorso? Intanto, se volete vederlo trattato in maniera più approfondita, c'è un video caricato sul Mantua Food and Science Festival 2019 perché abbiamo potuto fare un incontro di quelli che si chiamavano Semi del Food and Science Festival insieme a Dario Bressanini giusto nel 2019 al Teatro di Mantua, un posto molto bello dove abbiamo parlato di due temi che riguardavano il marketing e io mi sono occupato proprio della legislazione sugli OGM. Allora, vi dicevo, in quell'incontro io mi chiedevo che cosa bisogna fare? Beh, quello che non si può fare lo sappiamo dal 2018 perché nel 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto chiaramente non chiedete a me di cambiare le regole sugli OGM perché le regole sugli OGM le devono fare il Parlamento Europeo e i governi dei Paesi membri perché non può essere un giudice che non è legittimato democraticamente a esprimersi su questa cosa, significherebbe infatti che ciò che prima è stato deciso democraticamente poi viene cambiato dai giudici. Non va bene. Quindi lo standard devono fissare il Parlamento e i governi attraverso una nuova direttiva. Dopodiché questa direttiva verrà implementata dai singoli Paesi perché sugli OGM la competenza non è esclusivamente dell'Unione Europea. Però ci devono tornare e ci devono tornare a mio giudizio perché sono cambiate le condizioni. Per farvi un esempio con cui chiudo questa diretta quando c'erano le regole per la circolazione delle carrozze hanno cominciato a circolare le prime automobili ma pochi anni dopo che le prime automobili hanno cominciato a circolare ci sono volute le regole per gli automobili perché le regole per le carrozze non andavano più bene non fotografavano la realtà anche se le carrozze avevano quattro ruote le automobili avevano quattro ruote e tutte e due servivano a portare le persone ma il loro funzionamento, le loro caratteristiche erano tanto diverse da richiedere una messa a punto. Allora che cosa ci vuole? Ci vuole una forte pressione popolare perché i nostri politici la smettano di fare gli struzzi. Lo stanno facendo, lo stanno facendo da un pezzo. Nel 2018 tanto il governo italiano quanto tutti gli altri governi europei speravano tantissimo che la Corte Europea di Giustizia dicesse no ma aspetta il CRISPR-Cas9 non è qualcosa che rientra negli OGM perché è troppo puntuale la mutazione è troppo sile le mutazioni che avvengono in natura quindi non lo possiamo considerare come tale però invece la Corte è rimasta ligia al dettato del 90 e poi del 2001 e ha detto no io con la definizione che ho in mano sono un giudice e devo applicare la legge non posso che dire che il CRISPR-Cas9 è una mutazione genetica siete voi legislatori voi portatori del diritto di cambiare le leggi che dovete intervenire sulla faccenda e dovete rivedere lo standard perché se non lo fate voi non lo può fare nessun altro ma se non lo fanno loro è anche perché noi consumatori non glielo chiediamo e io personalmente lo dico anche perché sono in palese conflitto di interessi vorrei tanto delle viti che non fosse più necessario spruzzare di rame e di zolfo abbondantemente ogni anno essendo un coltivatore di viti biologico per salvarle dallo idio e dalla peronospera però non vorrei che fossero viti che derivano da ibridi perché quando coltivi degli ibridi il gusto non è quello delle viti a cui siamo abituati in Europa con i loro nomi con le loro caratteristiche enologiche il nebbiolo il pino nero la syrah il barbera il cabernet sauvignon allora per avere delle varietà europee che resistano senza ibridarle quindi senza cambiare il gusto la soluzione percorribile è soltanto quella del genome editing non è detto che funzioni non è detto che si riesca domani mattina e non è detto che sia una strada facile da percorrere però è una strada che ci porterebbe in una direzione di sostenibilità rispetto all'uso di antiparassitari certo la sostenibilità non si misura solo sull'uso di antiparassitari si misura anche sulla accessibilità delle risorse genetiche e sull'accessibilità della ricerca però attenzione per questo c'è una soluzione ed è finanziare la ricerca pubblica perché queste varietà vengano messe a punto dalla ricerca pubblica e siano a disposizione di tutti e non siano brevettate a favore soltanto dei grandi centri di interesse delle grandi multinazionali del seme delle multinazionali delle piante che fanno il loro mestiere guadagnano dai brevetti ma i governi possono finanziare la loro ricerca pubblica e porre la regola che quello che se ne ricava sia open access così può funzionare benissimo anche per quanto riguarda la produzione di piante e la produzione di derrate alimentari non è detto che la ricerca debba essere privata e che debba essere una ricerca tutta brevettata da società private quindi non mescoliamo i piani teniamo separate le questioni teniamo separate la questione dell'accessibilità alle risorse genetiche dalla questione della ricerca e riguardo alla ricerca teniamo presente che i passi che si sono fatti in 30 anni sono dei passi giganteschi questi passi devono portare a una riconsiderazione del quadro giuridico perché non possiamo più permetterci di dire che se la mutazione è casuale ed è indotta con le radiazioni ci piace e invece quando la mutazione è puntuale specifica su un singolo gene del tutto replicante ciò che può accadere in natura attraverso una mutazione spontanea come quella che ha portato il grano migliaia di anni fa a non perdere i semi nel terreno o che ha portato il pisello a non aprire il baccello facendo cadere i semi al suolo permettendoci così di fare la crema evidentemente invece va male non può più essere un ragionamento che regge semplicemente sulla base della tradizione e di ciò a cui siamo abituati è ora di ripensare questi schemi se volete farlo con me unitevi a noi e a Mario Pezzotti mercoledì sera alle 18 ne parliamo approfonditamente e sarà veramente un piacere stare con voi accogliere le vostre domande e girarle al nostro illustre ospite dall'Università di Verona buona serata grazie a tutti